Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! E per me io le ho! Ficca timing allucinante! Diciamo che io ho tramandato... Che capelli ha il padre? Ma sono belli! Io faccio calcio a livello agonistico Per chiedere... C'è mai stato un professore... Sei pan, però nel senso... C'è mai stato un professore maschio che magari provavi dell'attrazione sessuale nei suoi confronti? No... Più che altro perché... Boh... Sono sempre stati tipo tanto grandi... Quindi... Difficile come cosa... Però non so... Sarà tipo esperienza mia, Boh... Ah... Esperienza tastata... No... 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 Scusate ho il periodo refrattario... Bella questa! Questa è una bella battuta... Questa è una bella battuta... Basta l'ho fatto veramente a caso... Era solo per fare sta gag... Ho pensato sta gag dieci minuti fa volevo farla... Potete ridere per favore? No era... L'ho pensata... Veramente volevo fare... Cioè mi è venuta in mente sta gag da fare... Quindi ho fatto tutta sta tier list per fare sta gag... Quindi se potete ridere vi scongiuro cioè... A parte che... Ah è vero... Perché io prima di... Di cominciare a guardarti su Twitch... E... Mio fratello mi parlava di te... Cioè mi aveva fatto vedere qualche tua live... Però non t'avevo mai visto... E poi da lì ho cominciato a guardare ogni tanto... E poi dopo un giorno mi ha invitato... Per la prima volta... Però prima... Di vedere una tua live... Il primo che le guardava era mio fratello... Il vero fan è mio fratello... Cazzo... Ciao Tommy... Ciao Tommy... Quando entrava in live il tuo fratello... Sembrava non gli fregasse un cazzo di me... Vabbè... Vai avanti... Vabbè... Comunque... Cioè... Sono... Una persona normale... Capito... Non capisco loro come fanno a inalzarsi così tanto... E se un giorno ci riuscirò anch'io dai... È bella per me... Sono contentissima... È più soldi che mi entrano... Vabbè... Non è che ci riuscirà anche tu... Ora... Cioè... Volendo potresti farlo... No... Non credo... Amo... No... Te lo giuro per me no... Tu pensi che ci sarebbe... Grazie Rufus... Grazie Jacopo... Dovrebbe essere andato... Eccoti... Teletrasportata... Aspetta... Oddio... Velocemente... Chiara... Mi sentite meglio? Sì... Chiara... Eccolo... 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 Si è alzato di colpa... Ok... Va meglio così... Sì... Sì... Va molto meglio... Ehm... Di cos'è che stavamo parlando? Stavamo parlando di sogni zodiacali... Cioè se tu... Pensi di essere... Brutta? Sì... Che mondo? Non so... Sono tipo... Ehm... Ehm... E' una cosa che da sempre... Così... Sono stata abituata... Fin da piccola... Quindi... Cioè... A sentirmi dire questo... Quindi... Ma... Chi è che potrebbe mai dirti che sei brutta? Scusami... Ce ne sono state di persone... Quello che hai frenzonato immagino... Eh... Capisco il motivo... No... No... Proprio... In generale... Oh mia Alaska... Tu non hai idea della voglia che avrei di abbracciarti in questo momento... Cioè... Sei una persona veramente che... Pronto? Pronto... Salve... Sono una vicina... La chiamo perché non vedo il mio gatto... E credo che sia entrato in casa sua... Eh... Non è che magari lei è a casa in questo momento? Sì... No... Non sono a casa in questo momento... Il suo gatto del cazzo non l'ho trovato... È che vede... Giovedì... Perché giovedì? In che senso? Dice... Giovedì quando verrà... Cosa? Ehm... Il coso, no? La donazione? Ah... No, vabbè non ho capito... No, è... Un termine... Zio Pera... Ciao! 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 Ehm... Non mi esprimo... Non mi esprimo... Non mi esprimerò... Oh, le rubo una hitz! Vuoi venire a vederle? Sì, vuoi venire a vederle? Quando è che mi porti a vedere le tue arve? Quando vuoi! Ok dopo andiamo a vedere le tue arve... Va bene? Eh, top Buona quest'acqua E' buonissima l'acqua Vado a prendere il te Vai Fai vedere il microonde Ma che cazzo di riformazione è? 13 mesi, zio Pera Prepari questo Ragazzi, non so quando inizierà la live Perchè stiamo andando in hotel E Come lei piange? Perchè? In che senso? No, però non voglio vedere, magari si mette A disagio Perchè? Ma com'è? Ma no, si dice una cazzata Grande Ma cazzo Faceva rap, trap, reggaeton No, ma lui è lì per trollare Fidati, lui è lì per trollare Lui è un grande Lui è lì per trollare Fidati, lui è un grande Cinema Di Hollywood Allora Disprez Disprez E veniva chiamato tipo qualcuno che veniva disprezzato Che disprezza bagli altri Questo è fuori Lui urlatori italiani E Le persone italiane che urlano Per me Che c'è? Non ho capito, non ho sentito No Ma che cosa? Ho detto chi è questo? No, no, guarda Devo staccare la live Perchè? Ma non ho sentito Non ho capito il nome Mi chiamo Marta e mi piacciono gli altri Prendo tutte le emozioni e le scegherò Infatti voglio farla bartender Siamo sempre connessi Mi piace fare il drink E lavorare con me Non avevo capito, sì Non è che posso Sto a contatto con le persone Scusate ma È assurdo il mondo Strano, è proprio un ospite casuale Che si deve trasferire a Milano Il Don Basta Maggiorenna a Milano Senti Beh ma non vi sia una delle migliori Scusami 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 Non sono io Partito da una donazione Perdonami davvero L'ho schippata Perchè non sono una persona Non voglio che Nel senso Passino queste cose Ehm Comunque Chiara Chiara Ehm Che cosa che ti ha Non devi mettere gli occhiali Mio padre figa Cioè comunque Ovvio che quando Anche i miei nonni Non vedono benissimo Però non metto gli occhiali Perchè comunque Non è così grave la situazione No vabbè Non è grave Eh ma io Magari dei riposavista Che cazzo ti fai dei riposavista Per fare la porno star con gli occhiali Ehm 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 Vabbè Non so se essere Estasiato o eccitato Ehm Grazie al cazzo Piccolo Ma piccolo cosa Troietta Grazie per il ripito Piccolo troietta Maschile femminile Piccola troietta No se non è vero Togli il giro Sei proprio un altro Che assurdo Fa un altro discorso Grazie Nicola Spastico Assurdo Andiamo avanti Dai Grazie Senza su lei Ah Ehm Aveste l'Anse Eh L'ho detto Vabbè No Cioè Vabbè Così vai Andate voi In mezzo Io No 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 Ma sei tornato Guarda No vabbè ma era un gioco bellissimo Anzi volevo andare avanti Se volete lo descrivo io Vai Vai Allora Ehm Ok Bello no Avevi tutta l'armatura Tipo L'armatura era nel gioco Sì vabbè Avevi Il visore La roba sul petto Sui piedi Sul petto non aveva niente Ma sulla schiena Per dire Vabbè Giulia però Per essere precisi Ciao picca Sì Ti è piaciuto Bene Preferivi andare a cena No No Grazie Grazie Iacodino Grazie Maxi Grazie a voi Ma te li mando a te Sì ma che io che ciò Dagno la Dai dai Ma te li mando a te Ma mi stavi mandare un cartone No è istintivo Ma mi stavi mandare un cartone Il tuo amico Ma no è istintivo Fratello minore Ma dai Vieni pronto per tirare un cartone No è istintivo Ma parole fighe Cioè stai per tirare un cartone Ma te stai ad un cazzotto È istintivo No vabbè Guarda rivediamo dopo